Con questo video io mi rivolgo a tutti noi cittadini, in particolar modo mi rivolgo alle mamme, alle mogli, alle figlie dei nostri ministri. Proprio in questo periodo il Ministero dell'Ambiente sta valutando un collegato ambientale che prevede i limiti dei FAS allo scarico delle acque. Premetto che ci sono stati promessi i limiti zero e questa promessa ci è stata fatta per ben sei volte, garantendoci uno zero tecnico virtuale. Cosa vuol dire? Che sotto a quel limite la tecnologia non li può neanche rilevare, per cui li consideriamo limiti zero. Però manca una sommatoria per tutti i tipi di FAS, per cui l'azienda, qualsiasi azienda, può utilizzare, perché ce ne sono 4000 sostanze P-FAS, un'altra sostanza che non è citata in questa legge e di questa ne può sversare quanto ne vuole, perché non c'è nessuna normativa che gli impedisce di farlo. Quello che è successo in Veneto ha portato livelli di FAS nel sangue della nostra gente che sono i più alti al mondo. Mia figlia in un millilitro del suo sangue ne ha 100 nanogrammi, significa che in un litro del suo sangue ce ne sono 100.000. Per cui i 20.000 proposti dal Ministero dell'Ambiente si tramuteranno un giorno in 100.000 in un litro del sangue di Maria, di 350.000 nel sangue di Maria Francesca, di 60.000 nel sangue di Zeno. Care aziende chimiche, care aziende, noi vogliamo uno sviluppo economico che non faccia pagare i danni a noi, perché noi i danni li stiamo già pagando in spese sanitarie, in fonti pulite, in nuovi approvvigionamenti idrici, in filtraggio, in un irriguo che è contaminato e non ci dà prodotti sani, in battaglie legali, in battaglie per ottenere una bonifica. Ma questo lo avete messo in conto, cari ministri? Avete messo sul piatto della bilancia alla fine chi paga queste spese? Siete voi che rappresentate noi e a gioco finito siamo noi che paghiamo queste spese. Ma queste aziende, i soldi li hanno per dotarsi di circuiti chiusi, per dotarsi di tecnologie affinché non ci sia sversamento nell'ambiente. Non vogliamo che le aziende chiudano, ma noi vogliamo che le aziende lavorino come si deve. Abbiamo assolutamente bisogno dell'aiuto di tutti e di esseri uniti, oggi più che mai, perché se questa legge va in porto abbiamo finito la battaglia. Se questa legge va in porto abbiamo lavorato per niente. Perché noi siamo le istituzioni per i nostri figli. Se le istituzioni non sono in grado di proteggerli, questo compito spetta a noi.